Il professor Luciano Mutti, primario del reparto di oncologia del San Salvatore, è salito agli onori delle cronache su malgrado perché da gennaio, come oncologo, cura il boss Matteo Messina Denaro, che ha un tumore al colon. Non essendo possibile il ricovero in un hospice tradizionale, il boss è in ospedale, ma curato con la terapia del dolore in una cella sorvegliata H24 perché sono i suoi ultimi giorni, così pare almeno le terapie attive ormai non servono più. La conferma arriva direttamente dal primario che il RT8 ha incontrato in un convegno sui tumori, organizzato con l'università dallo stesso Mutti. Al momento le condizioni non sono tali da consentire le terapie attive, fanno terapie di supporto, in questo momento non lo seguo direttamente. Io direi che anche un certo accannimento giornalistico nel confronto delle condizioni di un paziente che comunque ha aderito alla sua privacy è una riflessione importante che dovremmo fare tutti. Dal punto di vista umano questa cosa l'ha cambiata oppure si è comportato come sempre fa? Ovviamente come ho sempre fatto, cercando di fare il meglio del peggio che posso dare, insomma voglio dire. No assolutamente, dal punto di vista umano è un paziente come un altro con cui si ha un rapporto anche perché no umano, perché è giusto che sia così. A proposito invece del convegno che si è svolto oggi, questo ha visto la partecipazione di molti luminari conosciuti per la cura del cancro. Di cancro si muore troppo, ma le tecniche e le cure stanno facendo passi avanti. L'Aquila, come ospedale ma anche università, spiega il primario, vuole essere un'eccellenza e crescere sempre di più. Sicuramente ci impegniamo a dare il meglio delle terapie attualmente disponibili nel mondo, di cui i pazienti possono usufruire anche qua, senza, come ho detto più volte, a volte fare viaggio della speranza, che francamente non hanno molto significato. Sì, e poi l'idea è anche quella di internazionalizzare il più possibile l'ospedale e l'università a cui appartengo, con orgoglio devo dire, e quindi far venire qui personalità da tutto il mondo. E questo è il primo step di una serie di step che vorremmo fare poi nel futuro, nei prossimi anni, per consentire di cominciare nuove collaborazioni di ricerca e clinica e traslazionale, cioè l'applicazione clinica della ricerca di base, qui all'Aquila, in questo ospedale, in questa università, e quindi, insomma, porre le basi per una crescita ulteriore.